Siamo passati nel treno, eh? Ah, che è morto, non fa l'altro problema. Aspettami un attimo, aspettate un attimo, allora vuol dire che i pezzi sono per un dispendolo del buon cibo. Guarda qui, Jack. Guarda! Sì, già mi sento una roba, mi tocca morire. Sì, già mi sento una roba, mi sento una roba, mi sento una roba, mi sento una roba. Sì, già mi sento una roba, mi sento una roba, mi sento una roba, mi sento una roba. È un'unica strada per uscire da questa città, per la città! I miei ragazzi e io la estremo in questo tipo di spartico locale, le mani ai miei. Più voi ti farete aspettare, e poi ci sarà, per lo quantificato di capire di Maldri! Si è e qui. Ce l'ho certo a un po' di r dizendo un pardo. Chi hai visto ventaglia? Ventaglia? Andiamo!